Buttare il pattume non sempre può essere agevole o privo di insidie, soprattutto per le persone anziane o con difficoltà motorie, ancor più se i contenitori nelle isole ecologiche sono posizionati in piena curva, esponendo i sollerti cittadini alle insidie del traffico, maggiormente nelle ore serali o se i suddetti cassonetti risultano più alti della sede stradale ed il cordolo del Selciato è molto alto. Diverse segnalazioni ci hanno portato nel quartiere di Fano II, dove due isole ecologiche creano malcontento da diverso tempo per la loro posizione. Queste due isole ecologiche sono posizionate secondo voi in un posto poco comodo? Sono posizionate molto male. Non credo che costi l'esagerazione fare uno scanso dove poter posizionare in un modo migliore i cassonetti, in modo sì che innanzitutto un pochettino più indietro, che se uno qui arriva tutto sparato, come camminano sempre qui tutti sparati con le macchine, se uno si ferma lì con una macchina è roba che ti prendono sotto, perciò leggermente più indietro per dare sicurezza anche al cittadino che va a buttare via i rifiuti e posizionarle più a livello di piano terra. Noi abbiamo ricevuto molte segnalazioni. Ma non solo questa, anche quella là su in alto, non so se l'avete vista, quella lì all'inizio della strada, anche quella. Per andare a buttare via il vetro bisogna andare in mezzo alla melma, dietro, dalla parte dietro, bisogna posizionarle in un modo consono. Effettivamente il problema di questa seconda isola ecologica è proprio la vicinanza a una curva e impone naturalmente alle persone che devono venire qui a buttare la spazzatura di essere un po' nella sede stradale e un po' sul marciapiede e quindi il pericolo potrebbe essere rappresentato proprio da questa necessità, quella di essere a ridosso della sede stradale per buttare la spazzatura. Basterebbe poco per migliorare la situazione, un intervento da poche migliaia di euro, ma come dice il cittadino renderebbe più sicuro il quartiere, già dotato di presidi passivi come il rallentatore di traffico, ma che andrebbero implementati e migliorati. Quello deve rimanere perché ogni volta che hanno tolto quel dissuasore sono successi dei problemi, come hanno rimesso il dissuasore non è successo più niente, vuol dire che allora è utile. Anche un marciapiede necessariamente sacrificato per riparare una perdita non è stato più ripristinato a discapito della sicurezza. Ma diamo a Cesare quello che è di Cesare, alle volte gli enti pubblici se sollecitati rispondono. Bisogna dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte perché tramite il sindaco Massimo Seri abbiamo contattato l'Aset, ha fatto venire su il camio dell'Aset e ha fatto la pulizia totale di tutte le caditoie di Fano 2 e questo qui bisogna dire che è stato fatto e perciò ci sono le cose che non sono fatte, quelle che sono sulla via di mezzo, quelle che sono in procinto e quelle fatte.